Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.RadioRomaLibera.org L'universo culturale del Tardo Impero era incredibilmente sfaccettato quando, con l'editto di Milano del 313 d.C., i due augusti, Costantino e Licinio, sancirono la fine della persecuzione contro i cristiani. E' l'inizio del concetto di tolleranza religiosa. Accordare ai cristiani e a tutti gli altri la libertà di seguire la religione che ciascuno crede affinché la divinità che sta in cielo, qualunque essa sia, annuia tutti i nostri sudditi di apace e prosperità. Con queste parole, il riscritto del 313 d.C. tracciava i termini di un concetto di libertà religiosa che sembrerebbe coincidere con quello modernamente inteso di tolleranza. La tolleranza descritta nel celebre documento, lungi dall'essere un mero mezzo di indifferenza diffusa e scetticamente applicata alla questione religiosa, come spesso si è abituati a intendere ai giorni nostri, diviene invece un ulteriore mezzo per scegliere Dio. Con l'editto, l'imperatore Costantino poneva le basi del percorso che avrebbe condotto nell'arco di pochi decenni la religione cristiana da culto privato a religione pubblica, ufficiale, l'unica pienamente riconosciuta dall'impero. Con Costanzino si percepisce un senso di novità in ogni aspetto culturale. Dal punto di vista figurativo viene abbandonata repentinamente la rigida struttura compositiva paratattica, cui si sostituisce un rinnovato e morbido senso della natura e della profondità, di gusto propriamente classico. In tale mutamente espressivo si coglie la nascita della cultura moderna occidentale. Successivamente, con Ambrogia a Milano, si sviluppò un ricco linguaggio artistico legato al cristianesimo imperiale. I grandi eventi storici dell'epoca vennero immortalati nei monumenti e sono giunti, fino a noi, nell'interpretazione che gli artisti da allora ne offrirono. Le ultime persecuzioni dei cristiani, la tetrarchia, la vittoria celeberrima di Porta Emilio nel 312 d.C., quando Costantino vinse nel segno della croce, e poi il riscritto dell'anno successivo. Ma tali sconvolgimenti culturali si accompagnava, come è logico, un dualismo culturale figurativo. Paganesimo e cristianesimo si mescolano e si sovrappongono in uno scambio eccessionalmente fertili di forme e contenuti. I significati cristiani utilizzano sovente un linguaggio appartenente alla più classica tradizione pagana. Nasce in questo modo la sovrapposizione di temi e simboli, che ancora oggi salda la cultura cristiana alla precedente sapienza classica, e che caratterizza, tutt'oggi, la nostra cultura europea. Allo stesso modo, i nuovi modelli sociali si riversano ancora nelle più importanti e tradizionali istituzioni del Tardo Impero, la Corte, l'Esercito e la Chiesa. La figura storica di Elena, madre dell'imperatore, rappresenta la personificazione del potere. Ella, ritrovando e consegnando la storia dell'umanità, il legno della croce di Gesù Cristo, assorge il ruolo di collegamento tra cielo e la terra, fra quelle che sono le umane regole del potere e la ricerca di una verità assoluta. Elena si bilancia tra realità e santità, e proprio in tale tensione perenne viene riconosciuta quale personaggio fondamentale della storia cristiana, sia dalla Chiesa d'Oriente, sia da quella d'Occidente. Uno dei ferri della croce rinvenuto da Elena servì, una volta fuso, come morso per il cavallo di Costantino. Simbolicamente il morso, freno, costituito dalla religione cristiana, se applicato al potere temporale, consente una guida più saggia ed efficace. Poiché nessun potere dell'uomo è in sé divino, bensì è attuato nel nome di Dio, e in ciò trova la sua giustificazione morale. Oggi c'è Radio Roma Libera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Grazie a tutti.